Un'immane tragedia ha travolto la nostra nazione. Siete stati sconfitti! Ora siete sotto il nostro comando! In casa mia non comanderanno mai. Hai qualcuno? Un ufficiale? Buonasera. Non lo guardiamo in faccia, non gli rivolgiamo la parola. Il pianoforte è suo, immagino. Vedo tutto quello che succede in questa casa. Il tedesco, a casa mia, vuole Madeleine. L'ufficiale che vive qui... Non parlo con lui. Non è quello che mi risulta. Posso suonare qualcosa? Quel tedesco è un nemico. Non lo riesci a capire. Perché mai dovresti essere migliore di loro? Io non ho niente in comune con quella gente. L'unica persona con cui ho qualcosa in comune. Sei tu. Il tuo ufficiale sta cercando mio marito. Tu sei l'unica che può aiutarlo. Sospettano che tu nasconda qualcuno. Se anch'io avessi solo il minimo sospetto, sarebbe mio dovere intervenire. Fuori! Abbi cura della tua vita. È preziosa per te? Sì, è preziosa per me.